ehi la ciò ormai io sono mazzates e ben ritrovato in questo 27esimo episodio di expeditions rome mentre qua facciamo ripigliare un po i nostri cari ragazzini andiamo a parlare con lupullo vedere che vuole da noi non abbiamo tanti soldi non tempo avevamo più soldi ah solidify adesso prima era prendine 6 adesso dice prendine 9 stanno arrivando ad attaccare prima italica ma non è successo niente sono rimasti tranquilli allora non se qui ci sono degli schiavi a riprendere ma dubito ne abbiamo un po comunque per cui non dovremmo essere troppo nei guai però già che siamo qua ah no questo non è il mio per cui non posso fare le robe va bene va bene no non voglio andare ad aiuti a calida scusami voglio andare a parlare qua con lupullo marco minuccio tale ma è il cesare non l'abbiamo più incontrato in questo ho risultato il tuo messaggio cosa è successo che è Damiano? chi è Damiano? chi è Damiano? chi è Damiano? ok ok pensi che è Damiano è l'estigatore di questo tradimento? quindi dobbiamo rimuovere Damiano dalla questione ok ok d'accordo ci occuperemo allora di Damiano le skill e gli oggetti e tutte le robe farò poi off camera senza stare qua a annoiarvi troppo appena avrò il tempo non è detto che riuscirò a farlo a breve però mi metto poi un attimo allora dov'è che dobbiamo andare? questo ah su sulla intraccia dobbiamo andare? ok ok andiamo allora qua 150 ci dà da 10 a 20 buono ok tornate qua poi rimanderei prendere la fattoria ne servono 15? vabbè ok ehhh cavolo ok se meno avvallate inizia a piovere l'acqua sarà in fretta c'è un alluvione che sta arrivando no cerchiamo di mantenere le robe vediamo se mettere l'erobiglio oh si sono fatti male vabbè dai non è non sono indispensabili perchè non perchè non vabbè arriviamo prima noi o fanno prima la fattoria? fanno prima la fattoria ehhh ehhh quindi era quanto ci costa? 10? no mi sa che anche no andiamole qua però a prendere il ah ecco c'è di nuovo il il ticoso degli schiavi va bene ehhh ehhh andiamo qui qui ah hunting ground qua c'è c'è un pozzo va bene che male non fa c'è altra roba che non sappiamo ma ah guarda che c'è un così glippo qua giardino di olive ehhh sembra una foresta no teniamo indietro abbiamo già incontrato questa abbiamo preso 13 razioni ma porca miseria ah l'arcella è stato curato va bene ah questo dà delle medicine buono scusate i gradiatori va bene andiamo a parlare con Damiano no dobbiamo per forza prendere loro ma prenderei anche i miei cari amici qua ehhh questo è nel dispensary ma posso prenderlo no no mi sta di no va bene dovremmo poi andare a recuperare tutti i tipelli dal nostro accampamento ah 1200 il threshold per scatterarli ok buon dì chi siete? sono iuri semplino a mezzetess legato dalla regione Victrix oh ehh ehh perchè sei qui? non ti aspettavamo ehhhhh sono qui per parlare con il lanista vabbè vabbè non ti aspettavamo non ti aspettavamo non ti aspettavamo si può durare più di un minuto contro la Ia Nera la prossima se è possibile dov'è che è lui? ho sentito da un uccellino che ti sei messo a... ti sei mischiato con Mitridate non ti amico? beh non è un segreto così che devi prenderlo da uccellino non è un segreto così ehh parli di praga che devi prenderlo da uccellino è vero non c'è nessuna razza per deniare io sono un uomo di business e Mithridates mi ha fatto un'offerta che abbia passato quello che avevo ottenuto dalla mia loyalità a Roma mmm offrirgli doppio mi sa che mi costerà un sacco di soldi ehhhh Andrico la seconda Surrender and be peaceful replaced as governor If you refuse my legion will invade Thraccia and burn this willow to the ground Your threats ring hollow Pontus has almost 300,000 men in Asia in addition to the Thraccian legions that are loyal to me Even without Mithridates your one legion, however formidable would find it difficult to stand against the legions of Thraccia Your legions were hastily raised and have never seen battle Vero But they are well equipped and they vastly outnumber you The facts are against you, Canturio You ask me why? Fine, I will see if I can explain it to you It is about Denarii, of course But more than that Rome is unraveling The Optimatis and the Popularis are at each other's throats It was this conflict that allowed Mithridates to take Asia from Rome once before It was only the election of a strong dictator that allowed Rome to defeat Pontus Perhaps you are too young to remember Cornelius Schuller and his purges Yes, I can remember So you have lost the Republic because you don't agree with your political The Republic is unstable and instability is bad for business No one has need of gladiators if war is at their doorstep Forza hai ragione Le fazioni del senato sembrano molto ingarbugliate The Senate has never been about the people of Rome They represent only the patricians Will you stay and continue this discussion of a dinner? You seem open to my view of things If you want, but I won't change my idea I am not one to shy away from a challenge Come Stefanos, we will make the arrangements Please don't go anywhere, Legate This will take a while I will visit the gladiators and get a sense of their mood We may be able to stir up some trouble Va bene, buona idea Enjoy your dinner, Legate Speriamo Di poterci fidare Eh no, adesso non sono io, sono bestia Ah ok Lul That's enough practice for today Get some food and some rest So you're ready for tomorrow's games Eh van tutti qua, ok Sono un gladiatore, questa è l'area dei gladiatori, no? Presto non saranno più vostri Oh yeah Come on, a few rounds, you can handle that No, you seek to humiliate me I sparred most of the day already You know, I'm tired You're a fierce warrior woman Why are you afraid of me, huh? The man destroyer, come on! Mmm, mi piace questa storia I'm saying no I want to eat I've got something right here for you to eat Bitch Ah yeah You piece of shit Stupid whore You'll regret that There's one left There's one left Disappointing Oh shit Ti muovi come un gatto ma attacchi come un rinocerante? Non ho avuto possibilità Eh, un ex gladiatore, mio nome è Bessie Tabat Mmm, un tempo, adesso combatto uomini La mia legione conquisterà questa zona ma... Prima uccideremo il tuo lanista per averci tradito Eh, vuoi aiutare? Hm... Non puoi entrare nella legione Il tuo servizio ti garantirà la cittadinanza romana E lo sconfiggeremo? E lo sconfiggeremo Ok, quindi ti piace combattere il ponte? Non ci aiutare, Tabat Non ci aiutare, Tabat Non ci aiutare, gli altri gladiatori, mi siano Sono come una piccola sista Per loro Dicami Qual è il tuo plan? Ottimo Ottimo Ecco cosa faremo Beh, abbiamo una forte alleata, mi sa Mmm... What did you think? The food was as good as I said, was it not? Mmm... Ci vorrà più di un ottimo pasto per dimenticare il tradimento della Repubblica Oh, vieni ora Almeno ditevi un po' di minuti per digerci Prima di rinforzare Prima di rinforzare la politica Domine! I gladiatori stanno riotando! Buono Tonight? Really? Just wait for it to die down and drag them back to their cells when they are done This time is different! They're working together! Huh? Impossible! Call them Alicia! I'll see to this personally Sembra che Bessi sia stato occupato Sembra che Bessi sia stato occupato Ottimo They have come to stop us! Time to show What you have learned! Right Practice time is over Allora, però direi che questo lo possiamo vedere magari nel prossimo episodio Io vi invito con questo aiuto a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non lo sei già fatto Ciao a tutti e buona giornata Ciao a tutti